Il menù della festa della Lega a Cervia prevede tagliatelle al ragù di Mora e la chiusura con Matteo Salvini. Già un'ora che sono qui seduta. Salvini ha vita, non cambio come fanno tanti. Io sono una fede, credo in Salvini e continuerò a farlo fin tanto che sono al mondo. Questo con le paillettes? Sì, l'ho fatto io per la Lega, per Salvini. Ci vende molto e c'è tanta tanta gente che viene anche a mangiare, a divertirsi e ad aspettare Salvini. Primo tema, chi sarà il candidato del centrodestra in Liguria? In mattinata a Roma Salvini ha visto Toti. Ho incontrato quello che per tre mesi è stato un prigioniero politico della giustizia italiana. È il governatore della Liguria. Sarà il leghista Rixi l'uomo destinato a succedergli? Pare di no. Edoardo sta facendo un gran lavoro al ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, quindi continuerà a fare il suo buon lavoro. Ci sono diversi candidati che possono fare i governatori della Liguria. Secondo tema, il capitano, visto il caso Toti, propone uno scudo che protegga i governatori dalle inchieste. Ipotesi che fa impazzire le opposizioni, ma che non dispiace agli alleati di maggioranza. E a proposito di alleati, terzo tema, Forza Italia continua a non amare l'autonomia differenziata, mentre arriva anche il ricorso della Regione Puglia alla consulta. Non bastassero le firme per il referendum abrogativo, tutti contro la riforma Calderoli. Dopo 30 anni di battaglie della Lega, quest'anno l'autonomia è legge dello Stato. Possono raccogliere tutte le firme del mondo, però autonomia significa sprecare di meno. Chi ha paura dell'autonomia? I De Luca, gli Emiliano. E infine, ma questo vertice tra i leader di centrodestra si fa o no? Si inventano il vertice lunedì, poi il vertice non c'è perché nessuno l'ha convocato e poi scrivono annullato il vertice, ma il vertice non è mai esistito. Questo governo che sta lavorando bene arriva fino al 2027, non un giorno di meno.